Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea, mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Che domani ti becco, domani, non pensiate tra anni, domani! Sono il sindaco, sul mio territorio non si passeggia. Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare sul suolo pubblico. Allora mi rivolgo a voi, ma dove cazzo andate? Dove andate con questi cani che ci hanno la prostata infiammata? Non è previsto il ping pong, non potete giocare a ping pong, andiamo alla Playstation. Siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decreto lo faccio rispettare io. Quindi se ne devi andare a casa adesso, non voglio le scuse. Tutti? Tutti? Dovete stare tutti a casa, deve andare. Non si può stare in mezzo all'astrattro, non me lo devo spiegare, non si può stare. A casa! Non la prostata, se ci dovete... La mazza, le fidanzate con la mazza ci vuole. Se cazzo di parrucchiere che vanno in casa a giustare i capelli e vedi, a che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che ho dovuto chiudere? L'avete capito che chi cazzo ti andava ne è per questi capelli giustamente ho dovuto? Ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda. L'ho fermato e l'ho fermato. L'ho fermato e l'ho fermato. L'ho fermato e l'ho fermato. L'ho fermato e l'ho fermato e l'ho fermato. L'ho fermato e l'ho fermato. L'ho fermato e 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 L'ho fermato e l'ho fermato.